Parliamo di teatro, voi sapete che la mia passione è insieme praticamente alla lirica del Petruzzelli o del Piccini e questa volta io devo raccontare di un pugliese, devo raccontarvi di Roberto Corradino, perché? Perché lui è riuscito a portare in scena il libro Cuore, libro Cuore della mia generazione, era un libro che ci insegnava a sognare, a soffrire, a sperare, a lottare, ed ora questo libro è stato rieditato, ma perché? Chiediamolo a lui. Perché il libro Cuore? Ciao Silvia, ciao a tutti gli ascoltatori. Naturalmente è un raccontare ora di uno spettacolo che c'è già stato al teatro Piccini e io desidero che tu poi mi racconti finalmente come ci sia arrivato, lotte, difficoltà, numero di persone intorno a te, i tuoi maestri. È troppo importante perché parlare di cuore significa parlare dell'essenza principale e veramente più, ripetiamo, più importante della nostra vita. Guarda, io penso che i titoli degli spettacoli miei, del reggimento Carri che era mia compagnia, siano sempre, come dire, profetici, raccontano sempre un momento di vita del percorso appunto della nostra compagnia e dire percorso della compagnia significa dire percorso del momento storico, della storia che si sta vivendo. Diciamo che tu sei uno dei lottatori del teatro che sta cercando di farcela, come è nato il tuo amore per questo libro, come e quando? Beh, allora, Cuore e io appartengo forse all'unica generazione che non l'ha letto a scuola, ma fra le mie letture è stato sempre, come dire, una spina nel fianco, nel senso che è un libro molto interessante perché è un libro che è stato scritto quasi ad hoc in un periodo in cui l'editoria in Italia, subito dopo l'unità d'Italia, era la forma di educazione più profonda, cioè abbiamo il romanzo... E ti è scattata dentro una grande malinconia per il fatto che non lo è più. Eh, certo, ma come la scuola, come questo paese... Allora, Roberto, parliamo un attimo di questo, nel momento in cui tu prendi una specie di sogno, no, di idealismo che ha assegnato periodi e generazioni e dopo un momento di totale abbandono di questo libro me lo riporti a teatro... Possiamo anche dire di distruzione di quello che è stato seminato. Allora, tu come l'hai portato, cioè come hai pensato di realizzarlo nella società odierna e soprattutto in maniera odierna di essere ragazzi? Beh, io ho pensato a quel tamburo nella notte che è il sottotitolo di Cuore, lo spettacolo è Cuore come un tamburo nella notte. L'ho legato a un episodio che mi è realmente accaduto quando cominciavo a pensare ma perché faccio cuore? Sì, avevo degli appunti di regia, non abbiamo più la scuola, non abbiamo più casa, abbiamo 150 anni ma è come se ne avessimo 10. Dove stiamo andando? L'Italia è per noi, per il reggimento, una bellissima icona, anche strappacuore, una bellissima appartenenza a Vuota, cioè un nome che non racconta più granché. Un po' come in tutta la storia d'Italia, però appunto dicevo, cosa mi è successo? Da noi di più. Da noi di più. Non voglio fare un discorso nel retorico come nazionalista ma faccio un discorso di senso. Non è mica colpa nostra né di chi ci dirige e che ci ignorano, ignorano anche i nostri capi, cioè nel senso che una richiesta fatta da uno dei nostri leader a Roma è una cosa quasi irrealizzabile mentre per gli altri basta soltanto un'intesa e la cosa scatta. Roberto, ti devo fare una domanda, scusami, perché stiamo facendo un argomento differente, ci stiamo parlando proprio dei problemi che il teatro giovane ha oggi. Tu sei stato accompagnato, credo, in maniera molto molto bella sia dalla regione sia dal teatro pubblico pubblico. Sì, sì. E ci sarà la collocazione del tuo spettacolo. Il prossimo quando, scusami? Allora, noi abbiamo una piccola tournée in Puglia e poi abbiamo dei contatti con dei festival estivi, stiamo lavorando sull'estero, il festival della Batina in Svizzera. Ecco, ecco, ecco. Vedremo alle colline a Torino. E' importante, credimi, al di là della diffusione regionale che ti auguro diventi poi capillare, teatro per teatro. No, ma stiamo parlando addirittura con New York, Silvia. Ecco, è quella la cosa più importante perché però parlarne, Roberto, è una cosa che a me ormai fa soltanto fastidio, perdonami, perché tutti parlano e poco fanno. Perché? No, io approfitto davvero per ringraziare quello che la regione in questo momento sta facendo. Ringrazio anche sulla stima personale e amicale con delle persone perché il bando per le giovani formazioni è stata una cosa importante. In questo momento la regione sta davvero dando una mano al teatro. E il TPP, il teatro pubblico pugliese... Il teatro e la musica i risultati si stanno vedendo. Unica cosa che ancora occorre ottenere è che non soltanto i grandi scendano da noi, ma che i nostri piccoli comincino ad andare in giro con i grandi. E tu lo sai che sono dieci anni che il reggimento dissoda, 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 la bellissima sorpresa che abbiamo avuto stando in una stagione così, come dire, blasonata, quale quella del comune di Bari e al teatro Piccini soprattutto, noi come giovane compagnia, sono state le tre pomeridiane in cui abbiamo raccolto 900 presenze di ragazzi. Beh, scostumati è quello che io dico da tre anni in radio, cioè che c'è un mondo in questa regione che non è quello della Bari Scicca, della Lecce Scicca, ma è quello dei nuovi giovani colti, deliziosi, senza soldi, senza progetti, vivaci, coinvolgibili. Allora, Roberto, ti ho fatto stare il doppio del tempo che si sta in radio, tesoro in bocca al lupo e alla prossima volta. Ciao! Cuore! Cuore, che bello! Come al tamburo, Nero!